Musica E tanta buona per tutti ragazzi Siamo a casa di Mr. Frank Tanta buona per tutti raga Siamo qui ragazzi per presentarvi Il nuovo sequel Merpgo Pog Order and Chaos 2 Redemption Redemption perché siamo completi Quindi Order and Chaos 2 Redemption Che è il sequel chiaramente di Order and Chaos 1 Perché se questo è il 2 E è un memorpg Come vi cercava di annunciare prima Black Pg Ossia un Massive Multiplayer Online Role Playing Game Sì, luppato dalla Gameloft Ed è un gioco disponibile Gratuitamente sia su Apple Store Che Google Play Store Quindi potete scaricarlo gratuitamente sia sui dispositivi Android Che quelli iOS Graficamente si presenta, sembra Carino Carino Io stiamo giocando ragazzi su un Apple 2 Che è veramente arrivato ormai alla fine dei suoi giorni Quindi non fateci caso Insomma se ci saranno lag e cose del genere Perché chiaramente l'hardware non è dei migliori Ad ogni modo insomma Gira abbastanza fluido Anche su dispositivi abbastanza datati E siamo qui arrivati subito al primo boss Ragazzi Abbiamo finito il gioco Non è vero Adesso vediamo Mr.Pleck che viene arato brutalmente dal boss Oh c'è una super mossa C'è una super Magia in corso La magia non è pronta Ma cosa non è pronta? In questo? Per una base Ricarica il mano È ammazzato Incredibile È troppo forte Mr.Pleck ragazzi Oh il martello di toro Oh Corri Preso Dammelo Come lo faccio a prendere? Non te lo prendi Sto a prendere Oh Oh Guarda adesso è mancattivo Fatto di Lego Gli altri Ti aspettano più avanti Grazie Kiko Gli altri Ci sono gli altri No Lost Praticamente Ci sono gli altri dell'isola Non si sa Carico È fermo È fermo Vabbè C'è la carica Però dopo Adesso hai capito Oh Ma cosa è successo Raga Dov'è la vita tua? Questa è l'alto? Tocca 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 Ah ma aveva gelato Vedi Oh Occhio Mamma mia Lui La letra proprio Con una no chance È figo però Allora non so Vedendolo da casa Però sembra figo Ecco adesso Dobbiamo toccarlo Lo c'è Lo c'è Lo c'è Lo c'è Lo c'è Lo c'è L'hai fatta Ma io non capisco La vita nostra è questa Qua su in cima No No Mamma mia La vita nostra Dovrebbe essere Con la sinistra verde Ah ok Io non l'avevo vista Ma già è morto? Vabbè siamo al più Ma di vero Trumfo Perché ci abbiamo preso il martello Oh Selezioni al personaggio Ecco Adesso qua ci divertiamo Creano un personaggio Creano un personaggio Creano un personaggio Alba guarda Picco bianco Fosso fondo Tasso frasso Serpentino Grifon Giorgio No ma fanno uno stupido Prende il nano Vai vai Il nano Il mender Vanno il grinch Guarda quanto accari così No no Ma è te Tipo Deve essere proprio ridicolo Capito Ma io ne eravamo proprio a fare Questo Oh cos'è Questo è più cattivo Guardalo Eeeh Con gli occhioni Con gli occhioni Da tipo Anime Kawaii Kawaii Kiko Nano Kiko Nano Bello Kiko Nano Bello Bello Oh aspetta Guarda questo che nome c'ha Ma ma siamo online Noi Oh ahì Che cazzo fa Guardalo Cosa viaggia Cosa sta a fare E-is E-is E-i-o E-o Ecco Ecco Missioni secondarie Raccogliamo Dei lilla celesti Oh questo è grosso Un bel po Ah mazzalo Mazzalo Ci provamo Vai vai Cos'è sto l'aggaso In battaglia Sentirlo silenzioso Ma di quanto c'è fa no, questo ci fa malissimo si distrugge, si distrugge vedi ci dobbiamo muovere così quanto è tattico, non c'è capito il crocodillo supermossa, supermossa stiamo girando troppo è andato bich primo mostro ucciso questo abbiamo sbloccato sale tesore nick, luogo magico ok, quindi abbiamo preso gratis, forse era antico spaccettiamo spaccettiamo oh, coraggiosa ventoliera non so come ringraziarti lo so io, Anna, una cosa adesso tessi la timida, ah no non era Anna Bellara, aspetta chi cazzo è Anna Bellara? no, c'era un'altra missione, abbiamo fatto due missioni contemporaneamente, vedi al cerchio della vita, girami, non si ferma mai bene, dopo aver ucciso un bel po' ah eh, grazie dell'aiuto belle voci proprio femminile comunque si vabbè beh ragazzi se vi è piaciuto questo video non esitate a scrivere nei commenti qualche altra app che volete vedere ve la porteremo settimanalmente in questa nuova settimanalmente non prendete la sua parola settimanalmente no, però se vi piace l'idea di nuove app ovviamente abbiamo cambiato totalmente genere questa settimana scriveteci qui sotto qualche gioco quelli con più like ovviamente saranno presi in considerazione e saranno portati nel canale qui Mr. Black vi saluta Mr. Frank, un saluto anche da me ci vediamo in un altro fantastico episodio di qualcosa qualcosa date il nome anche a questa serie ragazzi nei commenti un saluto da Mr. Frank e da Mr. Black al prossimo video ciao